la logica del desiderio è un romanzo sull'amore l'amore sul desiderio desiderio che lacera che ci lascia svuotati che ci riempie perché questo è l'andamento del desiderio va ritorna scompare si ripresenta ed è l'andamento che riguarda tutti noi la storia è incentrata su un personaggio uno studente di filosofia che sta scrivendo un romanzo che non finirà mai che si innamora di una vicina di casa che lui definisce l'inappuntabile ritratto dello splendore nasce una storia ma lei si stanca dopo poco in un colloquio gli dice mentre faceva la doccia mi sono accorto mi sono accorta che non ti pensavo più ma lui è scavato dal desiderio verso di lei e quindi inizia a osservarla anche a seguirla perché lei continua ad avere molte storie d'amore un giorno la donna si presenta a casa sua e gli dice che è incinta ma lui non ne vuole sapere per cui la donna fa un gesto in consulto e cerca di abortire in modo molto cruento anche in ospedale lui gli sta vicino finché la donna che si chiama vespa scompare la cerca per un anno ma non la trova per cui cerca di rientrare nei sistemi della socialità quindi trova un lavoro trova una nuova donna di cui pensa di essere innamorata finché non si non riappare vespa quindi ritorna la storia la storia d'amore ma lui capisce che il desiderio che aveva prima non è più come quello che aveva adesso non è più come quello di prima perché era perché il tempo lo ha lavorato per una regia io vedrei un regista potente e visionario come francesco munzi grazie